Torino riparte dall'Automotive, un settore che in Piemonte dà lavoro a oltre 75.000 persone. E quanto è stato deciso durante l'incontro in videocollegamento tra il Presidente della Regione Alberto Cirio, la Sindaca di Torino e dalla città metropolitana Chiara Appendino, e la Vice Presidente del Senato Anna Rossomando, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il Vice Ministro Gilberto Pichetto. Presenti anche gli assessori alle attività produttive di Regione Comune Andrea Tronzano e Alberto Sacco. La riunione è stata la prosecuzione ideale dell'incontro che le istituzioni piemontesi hanno avuto la scorsa settimana a Palazzo Chigi, durante la quale è stato consegnato al Presidente del Consiglio Mario Draghi il dossier per il rilancio allo sviluppo industriale del territorio, concordato con i rappresentanti del mondo imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Al centro del vertice, quindi, il futuro dell'Automotive. È stata accolta la richiesta di tenere all'inizio di settembre un confronto che verrà convocato dal Ministro Giorgetti con Stellantis e le istituzioni piemontesi per avere garanzie sui progetti di sviluppo dell'azienda sul territorio. A proposito delle nuove opportunità nell'ambito della componentistica, Giorgetti ha confermato che l'area di Torino rappresenta la candidatura italiana con le caratteristiche migliori per diventare la sede del nuovo stabilimento europeo d'Intel. Il Governo, inoltre, procederà nei tempi previsti alla nomina del Comitato di Coordinamento per la Costituzione della Fondazione per l'Intelligenza Artificiale, per la quale è stato anticipato che verrà inviata la proposta del territorio. È stato anche ribadito che la filiera dell'aerospazio potrà contare sulle risorse del PNRR, un altro ambito su cui il Piemonte ha grande tradizione, competenze e professionalità, ed è stata evidenziata la competitività del territorio per quanto riguarda l'idrogeno.